Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis, Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili. Sulla statale 12 è della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!